Più che una periferia, quella di Ponte di Nona ad est di Roma è una vera frontiera segnata dalla povertà e dal degrado, dalla disoccupazione, da fatti di cronaca drammatici che nessuno ha voglia di ricordare, ma per un pomeriggio nella parrocchia Santa Maria Iosefa del Cuore di Gesù tutto sembra diverso. Il Papa arriva domenica verso le 15 e 30 in quella che è la sua tredicesima visita pastorale per abbracciare ancora chi da sempre si sente e vive da escluso. A nessuno nega un saluto, una foto, una benedizione. Con gli oltre 200 bimbi dai 6 agli 11 anni riuniti nel salone del teatro parrocchiale, Francesco parla a cuore aperto, si confida, spiega rispondendo alle loro domande cosa succede nel conclave e afferma che per diventare Papa non bisogna pagare, non si fanno sorteggi né tantomeno serve essere furbi o più intelligenti degli altri, piuttosto si prega perché spetta solo a Dio scegliere il successore di Pietro. Come vedete è un processo di molta preghiera, molta preghiera. Non si paga, non ci sono amici potenti che spingono, no, no. Soltanto chi fa il Papa? Dio, lo Spirito Santo che tramite il voto fa il Papa. Ma soprattutto il Papa, prosegue Bergoglio in un dialogo serratissimo e coinvolgente, deve essere un buon cristiano, un pastore che non dimentichi mai di sentirsi padre, ancora racconta i suoi sogni da bambino e i momenti difficili che hanno segnato la sua vita, come la malattia a vent'anni che rese necessaria l'asportazione di una parte del polmone, esortando a vincere le difficoltà con fede e coraggio. Tenerezza e conforto per i malati e i disabili, poi l'abbraccio con le coppie di sposi e i loro bimbi da poco battezzati. Toccante anche il momento con le famiglie quotidianamente assistite dalla Caritas parrocchiale che provvede al loro sostentamento con cibo, vestiti e soldi per pagare le bollette. Infine la confessione di quattro persone e l'incontro con i genitori di uno dei due ragazzi uccisi qui in strada a Ponte di Nona nel 2015 a colpi di pistola. Le parole dell'Omelia sembrano rivolte proprio a loro. Niente vendetta, ma me l'hai fatta, me la pagherai. Questo cristiano? No. Me la pagherai? Non entra nel linguaggio di un cristiano. Niente vendetta, niente rancore. È il cammino del perdono, di dimenticare le offesse. Le grandi guerre, spiega Francesco, tutto questo massacro di gente, di bambini, tutto l'odio che c'è nel mondo è lo stesso odio che hai nel tuo cuore per qualcuno. Quindi, prendendo spunto dal brano del Vangelo che narra la rivoluzione dell'amore portata da Gesù, il Papa ribadisce che il male non si vince se non con il bene. Perdonare nel mio cuore. Questa è la strada della santità e questo allontana delle guerre. La guerra incomincia qui, nell'amarezza, nel rancore, nella voglia di vendetta, di farmela pagare. Ma questo distrugge famiglie, distrugge amicizie, distrugge quartieri. Vero antidoto contro la violenza e il rancore è la preghiera, afferma il Pontefice, unico strumento che spiana la strada alla santità e alla perfezione del Padre, che porta frutti di pace e duratura e perciò, per quanto sembra impossibile, la preghiera deve essere ancora più forte verso i nemici, quelli che ci hanno fatto del male o sparlano di noi, perché solo così, dai piccoli gesti, si riesce a cambiare il mondo. Al termine della messa, un ultimo abbraccio alla folla e un saluto, nel segno dell'unità, tra le tante anime che vivono in questo quartiere. Grazie. 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 Grazie.